Sindrome da svapo, cioè dai vapori inalati delle sigarette elettroniche, le autorità sanitarie americane hanno ribattezzato così la misteriosa malattia che colpisce i polmoni. Il bilancio delle vittime è sagrava, sale adesso a 5 morti in due settimane. Non ancora del tutto chiari i legami fra l'abitudine di svapare, questo il verbo che descrive il fumare elettronico, e quei sintomi gravi, tosse acuta, febbre, vomito, fino alla morte. Ma un dato sembra emergere in tutti i casi di decesso, i fumatori avevano mischiato nel liquido per il cosiddetto vaping, cioè i vapori, alcuni prodotti contenenti THC, principio attivo della cannabis, creando a quanto pare un cocktail fatale. Le recenti segnalazioni di casi di malattie gravi in fumatori di vaping, cioè la sigaretta elettronica in cui si aggiungono sostanze, ci ricorda che soprattutto quando si aggiungono sostanze tipo i cannabinoidi, si possono generare delle reazioni nei polmoni anche molto gravi. Questo è relativamente diverso dalle sigarette elettroniche che vengono confezionate e sono più controllate e che possono aiutare a diminuire l'abitudinità magica in alcuni fumatori. Ci ricorda comunque come messaggio generale questo episodio e queste segnalazioni che fumare è certamente pericoloso e che non fumare è sempre quello da raccomandare sia ai giovani che agli adulti.